Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove ci sono code a tratti tra Tirrenia e Livorno Centro in direzione Livorno. Attenzione alla perdita di carico tra Navacchio Visignano e Pisa Nord-Est in direzione Pisa. In A1 rallentamenti per una perdita di carico tra il Bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione Bologna. Rallentamenti per un incidente avvenuto tra Firenze Scandici e Firenze Impruneta in direzione Roma. In A15 l'area di servizio di San Benedetto in direzione La Spezia non eroga GPL, chiusa l'area di sosta per i mezzi pesanti. Infine per i traghetti la corsa Toremar da Piombino a Porto Ferraio delle 10.30 è stata cancellata. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!